Ragazzi buongiorno e bentornati, oggi vi voglio dare una mano e spieghiamo un attimino come funziona Terapick. Andiamo subito in condivisione dello schermo e diamoci dentro. Ottimo, Terapick è uno strumento molto semplice che serve in particolar modo per fare l'analisi di mercato. Si possono fare analisi di mercato sul mercato italiano e anche su altre nazioni, ma partiamo subito con quello là italiano che è quello che ci interessa. Molto semplice, io basta che inserisco una parola chiave qualsiasi, che può essere Jeans, ad esempio jeans, e definisco anche uomo o donna, posso andarmi a vedere nell'anno passato quanto ha fatturato questo pantalone, questa tipologia di prodotto. Importante ricordatevi di poter accedere in Terapick, analisi, ricerca prodotti. Prima non era disponibile per gli utenti privati o quelli che non avevano un negozio, ora è disponibile, perciò noi da qui possiamo andare a vedere velocemente quanti pantaloni, quanti jeans si sono venduti da uomo. Attenzione, ci sono delle variabili che non teniamo conto, se sono elasticizzati, se sono extra large, se sono XXL, se sono blu, se sono neri, queste sono variabili che non stiamo analizzando, perciò si va nel complessivo. E il risultato che mi dice è che il prezzo medio di vendita è di 37,62, il costo spedizione medio è di 9,37, le spedizioni gratis sul totale del venduto è del 69%, che ci sono 2154 venditori. Prima c'era una cosa molto interessante che era quella dove mi dava addirittura il totale del venduto, ora non si sa perché l'eBay l'ha tolto e siamo a ottobre 2024. Qui possiamo andare a vedere in ordine crescente il numero di oggetti venduti, che non vuol dire aver fatto molti soldi, vuol dire, potrebbe anche dire, sì, ne ho venduto 386, ma il mio totale di vendita è di 7000. Ne ho venduti di meno, ma ho fatto di più. Questo dipende dal prezzo di vendita del prodotto. È interessante Terapic, ed è uno strumento gratuito, lo vado a ripetere, perché ci può dare indicazioni quali sono le tendenze di mercato che stanno andando, perché qui io riesco a capire tante cose. Oltre al fatto che vedo che ci sono dei pantaloni da jeans, dei jeans a uomo che vengono venduti, ma posso anche andare a vedere in maniera molto intuitiva che, ad esempio, questi pantaloni da jeans la maggior parte ha una cosa in comune, che per quanto riguarda i pantaloni da jeans ci sono tantissime vendite, ma la cosa interessante, questa è una chicca che vi dico, ma non ce l'ho da Terapic, che ve lo dico io dall'esperienza, e che vediamo che la parola mastino è presente ben dieci volte in questa pagina, composta da 50 risultati. E qua ci fa capire qualcosa di interessante, che forse c'è una tendenza di mercato che porta a comprare pantaloni da uomo della marca mastino, che credo che spinga in particolar modo sulle taglie forti. Posso andare a vedere qual è il venditore che sta facendo i più numeri sulla base di un anno, ma posso andare a vedere anche i numeri che si stanno facendo sulla base di sette giorni. Vedo che negli ultimi sette giorni ci sono stati venduti nove pantaloni, importante, la marca sta spingendo questa, e poi posso vedere che quel pantalone che ho visto prima con la marca mastino è ancora presente addirittura, è quello che ha fatto più vendite. E' interessante Terapic perché ci può dare una mano su queste cose qui, ci può far capire determinate cose, però fondamentale e importante che questa è una delle tante variabili che compongono la vendita, perciò indicativamente posso dire vorrei vendere di jeans a uomo, parto da qui, poi inizio a fare un filtro, i colori, le taglie e questo e quest'altro. Altra cosa interessante che ci può essere molto utile, ma lo facciamo sempre sull'anno passato che è ancora meglio, ripetiamo la ricerca, possiamo andare a vedere la tendenza del mercato, vale a dire come si muove il prodotto durante l'arco dell'anno, e qui abbiamo la statistica della stagionalità, perciò se siamo ottobre sappiamo che abbiamo un picco fino ai primi dicembre, abbiamo un piccolo calo, lo vediamo da qui, poi abbiamo di nuovo un'altra crescita e questo è il cambio di stagione, alla fine che però dipende tantissimo da come cambia il clima, se la stagione solitamente del cambio è a marzo ma il tempo rimane ancora brutto e piove, passerà a maggio, esempio stupidissimo. Questo è interessante perché qui ci può far capire bene come si muove il mercato, queste onde ci indicano che ad esempio ad agosto abbiamo un calo, perciò non vendo ad agosto, è normale, abbiamo un calo dovuto alla stagionalità, perciò qui noi abbiamo sempre il numero dei venduti, possiamo andare a classificare i nostri prodotti in ordine crescente, decrescente, perciò adesso qui sono in ordine dei venduti, vado a ricliccare, lui mi darà dal più basso al più alto. Posso andare a vedere qui invece l'ordine delle vendite, vale a dire la data, perciò 5 ottobre, perciò questi sicuramente saranno quasi sempre uno perché prende l'unità singola. Solitamente è meglio andarlo a mettere per la quantità dei venduti o per quanto riguarda il corrispondente volume di denaro che si è fatto, che potrebbe interessare. Qui è molto generico, se vado a farmi una ricerca in Levis, esempio, andrò a trovarmi tutti i risultati dei pantaloni, scusatemi, dei jeans venduti Levis nell'anno passato e qui vedo tutti i venduti. Chi ha venduto di più è stato questo, ne ha fatti fuori 40, 25 e 28, la sua tendenza di mercato è Levis, dovrebbe seguire quella della tendenza stagionalità anche se qui abbiamo un picco, qui ci possono essere tanti fattori, un venditore che ha fatto fuori uno stock che li ha svenduti completamente, perciò c'è un cambio di struttura della stagionalità, è successo qualcosa, bisogna andare nel profondo. Altra cosa interessante è che io posso andarmi a fare un filtro per condizioni, nuovo e usato, per formato, asta, compra subito e una fascia di prezzo. Sinceramente tutte le altre funzionalità di Terapic io non le uso perché secondo me non sono valide in un certo senso, ok? Queste qua è una cosa che la vedo già all'inizio, perciò qua mi dice il prezzo medio alla fine, ma l'ho già visto all'inizio e questo sinceramente non è che sia molto utile. Quello che è veramente interessante è andare a vedere chi ha fatto più vendite, perciò noi dobbiamo raggiungere quello che è quello che è in posizione numero uno a livello di vendite, la stagionalità è interessantissima e sappiamo quando ci possiamo aspettare un calo, perciò è inutile che ci lamentiamo se agosto non vendiamo, è normale che ci sia un calo. O ad esempio vado a togliere Levis, faccio un esempio stupidissimo, mi vedo in generale la tendenza di mercato, vado a vedermi la sua stagionalità, ok? E posso dire addirittura, ok, so che a ottobre parte il mercato, cosa faccio? Beh, settembre, ottobre, ok, questa è la ripartenza più o meno, però facciamo finta che sia ottobre, l'1 ottobre, cosa faccio? Quando è che devo pubblicare? Fine settembre, ok? Perciò anticipo il mercato. Bene, spero che questo video vi abbia dato un aiuto, una mano molto veloce, non sono andato molto, ma vi ho fatto vedere come andare a utilizzare Terra, che poi al massimo se volete mettetemi un commento qua sotto, indicandomi che volete approfondimenti su Terapic. Per il resto vi saluto, non vi dimenticate di lasciare un like e vi do un consiglio, andatevi a vedere questo video importante che è una live che ho fatto tempo fa, che parla proprio di analisi di mercato, perciò non mancate andare a vedere questo video. Per il resto vi ringrazio, alle prossime da Max. Ciao!